musica 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 è silente colpisce dall'alto sbogiiiiii si vedi che hanno campra a tutti ancora ancora ancora? si 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 guarda sono stupidi eh che cazzo è? Poi, attenzione, scasciata in faccia, colpo al diaframma e decapitazione in online. Parata, colpo in faccia, spudellamento e decapitazione. Poi andiamo dal prossimo. Il prossimo, pugno in faccia, colpo al diaframma e colpo che gli spacca il setto nasale. Merda, mi ha sparato. Mi ha sparato. Allora, cosa facciamo a lui? A lui, colpo in faccia, pugno in faccia e decapitazione. Ha perso la patria superiore del cranio. Che bello, che bello gioco tranquillo. Guarda, quando rilassare. Ma, 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 ma! Mi ha rotto il filo della schiena. Faccia da lui. Ecco, ecco. Cosa fa? Oddio! Oh mio Dio! Ragazza, imbasso il braccio! Togliola! Ehi, la porta è per di là. E' il filo che fa? Che fa? Quello è il primandello? Quello lì nella sua mano. Non lo so. Comunque, dovremmo regalare al minimo 4 o 5 di elezioni Bravo! E apre la porta! Quanta compendiosità! Sì, ma adesso sarai pagato, sarai in fondo là Ma vai sulla scala, no? Idiota! Sì, il foglio! L'erzo! E vai a vedere se non può accendere Adesso è illuminato, ma non puoi ancora farlo così Non puoi ancora farlo E poi lì che spara Danton Sì! Ti sei pagato! Danton! 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 All'altra persona, adesso puoi parlare?! Danton! Mi rivolzi la parola cazzo! NoTS ha unzzo due milanv озzedondo! non ti sei svegliato dopo questa cucinata allucinante dai riavviamo la allora facciamo tanto saremo paccati ragazzi andiamo seguita me seguita me in 50 dai ancora uno che è successo? c'è anche quello è morto? ma perché non è morto? ma perché non è morto? oddio è immortale amico immortale adesso l'amanzi verrà ingiattibile it's over 9000 attacca aspetta che calcolo il suo livello di ma non si muove più sto calcolando il suo livello di va bene, di energia guarda la gente che li guarda aspetta eh non ce lo dà non ce lo dà non ce lo dà niente ai ragazzi di mortale lasciamolo stare allontaniamoci da da lui che è il Superman's Hour andiamo un ucci di questo qui davanti che non si è ancora tra l'altro è divinato 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 ricapitolando quello che abbiamo fatto abbiamo cercato di parlare con Danton nella missione abbiamo cercato di parlare con Danton il risultato è stato più o meno questo Danton 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 se non ti hai dato aiutarti Danton mi viene da aiutare scusa ciao a tutti su questo svuotebellamento vi salutiamo esatto e al prossimo streaming